Ecco, allora, è alle prese, mio marito a fare la pasta fatta in casa. Allora, raccontaci un po', che cosa ci hai messo a questa farina? Questa è farina di grano duro, le uova sono genuine. Sì? Ho messo, come potete ben vedere, della cipolla di campo. L'ossata ho messo la cipolla di campo. Vedi? Adesso la sto tirando. Ah, ho messo anche un po' di zenzero e un po' di curcuma. Buono. Che proprietà hanno zenzero e curcuma? Eh, sono delle spezie orientali, hanno delle proprietà antiossidanti, ma anche altre proprietà che ancora il mondo scientifico in parte non conosce. Bene. Ma vengono dalla tradizione popolare cinese. Ah, pensavo anche indiana. Indiana, indiana, sì. Beh, sì, gli indiani utilizzano molto queste spezie. Facciamo le tagliatelle. E la sicoria? Eh, adesso non ricordo. Beh, è depurativa, no? Fa bene al fegato. Sì, anche. Bene. Poi è ricca di fibre. Sì, sì. Ottimo. Bel colore, eh? Bellissimo. Bellissimo. Sì, sa che bontà. Facciamo le pettuccine e poi anche la lasagna. Eh. Per dire, prepariamo un po' di pasta... Fatta in casa. Genuina. Ottimo. Sì, la parla.